Ottobre è il mese particolarmente dedicato alla missione. Quest'anno l'Ottobre missionario avrà questo titolo, Cuori ardenti e piedi in cammino, ricordando l'esperienza dei discepoli di Emmaus che incontrano il Signore, camminano con Lui e lo riconoscono e non spezzare il pane. Infatti l'ascolto della parola e l'Eucaristia sono proprio i due temi che il Papa ci invita a riflettere in questo particolare periodo nel mese missionario. L'Eucaristia è che si fa poi concreta azione di carità nell'aiuto dei fratelli tramite la raccolta delle offerte della giornata missionaria mondiale che, lo ricordiamo, confluiscono nel Fondo Universale di Solidarietà, un fondo che va ad aiutare tutti i missionari sparsi nel mondo senza distinzione di luogo. Questo davvero diventa una concretizzazione di quella che è l'attività missionaria che è fondante per la Chiesa. Allora l'invito da parte del Centro Missionario a tutti, in maniera particolare le comunità parrocchiali, di vivere questo Ottobre Missionario pregando e condividendo con i fratelli. Buon mese missionario a tutti!